In precedenza, Dash se n'è andato e un ragazzo, Isaac, lo ha sostituito. È davvero bravo. Questo è il mio posto. Armando ormai insegna a scuola a tempo pieno. Quindi dovremo sopportarci. E non è una bella cosa, visto che sa tutto sul blog. Devi scegliere o il balletto o il pop, non puoi fargli entrambi. Max è ancora arrabbiato con me perché non gli ho detto di Harry. Abbiamo avuto notizie da Thea. Sta frequentando la scuola nel 1905. È venuta. Dove troverà la mia nemica, Claudine Reno? E non sappiamo ancora dove sono finiti i raccogli-tempo.